Fedez suona il campanello e da dietro la porta arrivano le urla felicissime dei bambini che a tutta voce esclamano, papà, papà, papà Un rientro a casa che ha scaldato il cuore di Federico che vedendo Vittoria e Leone correre l'incontro per abbracciarlo lo ha commosso Lui si è seduto per terra e prima uno e poi l'altra lo hanno stretto Leone poi è tornato in casa a prendere i disegni che aveva fatto per lui Fedez ha voluto pubblicare il dolcissimo filmato su Instagram per condividere questi momenti di dolcezza con tutte le persone che gli sono state vicine e che gli hanno mandato messaggi di sostegno e affetto Come ha spiegato Federico nell'intervista al Corriere il suo percorso di guarigione non è ancora terminato, anzi Da mesi ormai è seguito da uno psichiatra e psicoterapeuta per cercare di ritrovare la sua salute mentale, ma sono proprio questi momenti, che inevitabilmente diventano ricordi la componente fondamentale per ritrovare la serenità e la felicità Grazie a tutti